Un saluto, un ringraziamento a voi tutti. Ringrazio Carlo Pulsoni, ideatore di questa collana seminariale sulla fortuna di Arnaud Danieli dal Medioevo alla Contemporaneità. Di questa collana è un anello importante il poeta italiano Pietro Tripodo, autore di una traduzione integrale delle liriche di Arnaud, pubblicata nel 97 dall'editore romano Fazzi. Vi ho riportato nella prima delle tavole degli strumenti, dei materiali che vi ho provvisto, la bibliografia di Tripodo. Tripodo era nato a Roma nel 1948 e quindi pubblicò la sua traduzione di Arnaud quando stava per toccare i 50 anni, che è un'età critica per chiunque, più ancora per un artista è un poeta, perché è un'età entro la quale lo zolfo può essersi, per così dire, già esaurito e la fiamma può essersi già spenta o andare languendo. Ma è anche l'età nella quale un poeta può cominciare ad ardere davvero e a gettare una più forte luce. Estremizzando a 50 anni un poeta può essere un vecchio secolare, stanco e deluso di tutto, così come un ragazzino pieno di vita che comincia nuove strade, nuove scoperte. Tripodo apparteneva più forse a questa seconda categoria. Dagli anni 70 inizia a inserirsi nell'ambiente poetico romano e a partire dalla metà degli 80 cominciano ad apparire le sue prime poesie in rivista. Nel 91 è la volta della sua prima raccolta poetica, dal titolo Altre Visioni, pubblicata dall'editore Rotundo di Roma, ristampata poi nel 2007 postuma. Dei dodici pezzi pubblicati ben tre sono traduzioni poetiche, due da sonnette di Shakespeare e una dal Pascoli, poeta latino. Tripodo ha sempre praticato questo tipo di scrittura. La traduzione poetica è sempre stata per lui un importante laboratorio in cui definire i propri personali temi e la propria lingua poetica. La sua seconda e ultima raccolta poetica uscirà nel 98, col titolo Vampe del Tempo, per le edizioni romane Il Bulino. Si tratta di una sequela di brevi prose liriche che definiscono a un tempo quasi un diario poetico e una sorta di interrogazione personale sui temi e sullo stile della propria poesia precedente. In preparazione forse di una nuova fase creativa, purtroppo il male che l'aveva minato nella salute non lo risparmiò. Tripodo muore dopo una lunga e dolorosa malattia nel 1999, lasciando incompiuto, oltre al suo tragitto vitale anche il suo processo artistico. La traduzione di Arnaut impegnò il poeta sino quasi allo stremo della sua vita, chiedendo un decennio artistico che era stato anche denso di traduzioni poetiche. Ho detto di quelle incluse nella sua prima raccolta, ma molte altre ve ne furono pubblicate e inedite da autori classici, greci e latini, i quali Ibico, Mim Nermo e soprattutto il prediletto Orazio, ma anche dallo spagnolo Antonio Maciado e dal poeta austriaco Georg Trakl. E ultimo viene dunque Arnaut. Come vi sarà ormai familiare per la cultura italiana, Arnaut è più ancora che un poeta storicamente vissuto una sorta di funzione, direi una presenza sotto traccia che si inocula a partire già dalle fasi originarie della nostra poesia, con Dante soprattutto, e poi con Petrarca, ma anche con Boyard e via via, sottraendosi e riemergendo a cadenze regolari, raggiungendo sino al Novecento. Destino questo che tra tutti i trovatori tocca in via esclusiva solo a Arnaut. Ed è una funzione, se vogliamo così definirla, che lungo la storia della nostra poesia si configura, potrei dire, come una duplice figura di tentazione e pericolo, come immagine di un potenziale e rischioso squilibrio, quello del prevalere dell'artificialità sulla naturalità, della perfezione degli assetti metrici, ritmici e musicali sulle necessità del significato. Arnaut, così per usare un'immagine, è una sorta di medusa pietrificante. Il suo emblema è quello della donna Petra, della donna delle liriche dantesche, dette appunto Petrose. Ed è la pietra filosofale dell'esoterismo e dell'enigma, ma anche il sasso inerte dell'autocompiacimento e dell'enigmistica. Gli anni Ottanta segnano in Italia uno dei fatali ricorrenti ritorni al culto di Arnaut. Sono gli anni del cosiddetto neoformalismo di poeti come Patrizia Valduga e Gabriele Frasca, per fare solo qualche più importante nome. E questo è un periodo in cui l'interesse per le forme chiuse della tradizione, il sonetto, il madrigale, la quartina, chi più ne ha più ne mette, la trecina dantesca. Porta ad Arnaut e porta ovviamente alla sua poesia emblema, la sestina, che si fa a volano gli esperimenti, ad esempio in Frasca, la composizione di variazioni della sestina, la dissestina, la iper-sestina. Un continuo travaglio di sperimentazione su queste forme chiuse della tradizione, lanciate quasi a sfida nei confronti non solo della poesia tradizionale, ma anche dell'avanguardia, per esempio, di un poeta come Sanguinetti. Non so se l'interesse di Tripodo per Arnaut può essersi originato o almeno rafforzato anche a causa di questa temperie. Se così fosse, è pur vero che lui va in una direzione completamente diversa. Ben prima della tradizione arnaldiana, la cifra di Tripodo è quella di un ossessivo rifinitore di parole, quindi è già in qualche modo presente la cura, la lima nella sua poesia ben prima dell'incontro con Arnaut, tanto nelle sue poesie originali quanto nelle traduzioni. Mai soddisfatto degli esiti raggiunti, poteva continuare a elaborare anche un singolo verso per anni e cambiare poi tutto nelle bozze per la stampa. L'incontro con Arnaut, al di là delle occasioni esterne, appare in qualche modo un andare volontariamente incontro a qualcosa di comunque inevitabile. Un incontro alla fonte stessa dell'ossessione per il lavoro sulla parola, sul ritmo, sul suono. Mi viene così istintivo pensare a certi incontri che il dante poeta impone nella commedia al dante pellegrino. Incontri che sono volontari tanto quanto sono inevitabili. Gli incontri con il proprio simile che diviene per questo anche un avversario. Gli incontri con Ulisse, con Guinizelli e con lo stesso Arnaut. Sono gli incontri che comportano al poeta, a Dante come a Tripodo, il rischio di svelare innanzitutto a sé stesso, più ancora che al lettore, al critico, il segreto più pericoloso, cioè il segreto della propria arte, che è un segreto che una volta svelato può portare anche alla perdita di quella conoscenza che pur segreta era nell'arte del poeta. Per affrontare Arnaut Tripodo si immerge nello studio. Per acquisire una dimestichezza che divenga sintonia con la lingua del poeta si rivolge alle molte edizioni critiche del poeta, alcune anche recenti come quella di Mario Eusebi che era uscita nell'84 che poi è quella utilizzata per la traduzione. Si rivolge ovviamente ai lessici di Renoir, di Levi, alla grammatica citanica di Aurelio Roncaglia, i nostri strumenti consueti. Frequenta alla sapienza i romanisti, in primo luogo Paolo Canettieri e anche Carlo Cursoni. Paolo Canettieri che scriverà più tardi l'introduzione al volume delle traduzioni. Il lavoro di Tripodo fra filologia e poesia sarà lungo e profondo condotto con l'abnegazione e l'entusiasmo totalizzante che è appunto quella della nuova scoperta. Dicevamo prima il ragazzino che scopre una nuova strada. La raccolta quando uscì ebbe una buona risposta dalla critica. Sebbene non avesse alcuna relazione con gli scopi e le polemiche neovanguardistiche del movimento neoformalista è possibile che comunque il dibattito abbia favorito l'accoglienza. Certo è che la traduzione di Ernaut non mancò di suscitare curiosità negli ambienti accademici, soprattutto tra i filologi e romanzi. Se posso introdurre una mia esperienza personale ricordo che in quell'epoca ero studente a Padova e avevo appena terminato di seguire un corso di Furio Lubugnolo proprio su Ernaut e sulla Sestina e sulle Sestine. Quando Carlo Pulsoni, che allora era ricercatore a Padova, portò il volume alla biblioteca della nostra facoltà, mi affrettai a leggerlo e mi rimasi molto colpito. Al punto che delle scelte del metodo di Tripodo mi ricordai e feci tesoro quando una decina d'anni dopo toccò a me tradurre qualche lirica di Ernaut per un'antologia curata con il mio amico Dancia e Praga. Sta di fatto che l'interesse per la traduzione di Tripodo ebbe un rilancio quando nel 2000 uscì per la collana bianca di Einaudi un'altra traduzione integrale del poeta, opera di Fernando Bandini, poeta vicentino, autore di notevoli raccolte poetiche pubblicate da Meripozza, da Mondadori, nella collana dello specchio e da Garzanti. Per inserire un altro anelito personale, ed è l'ultimo, prometto, anche Bandini entrò nella mia esperienza il studente padovano perché fu mio docente di stilistica e metrica, ma devo dire che pur ammirando le sue doti di poeta, nella sua traduzione di Ernaut trasse un influsso minore rispetto che da Tripodo e anzi mi apparve come l'emblema alto e nobile, forse il migliore possibile, di una visione stilistica che non mi succonfaceva. Come la raccolta di Tripodo, anche quella di Bandini si giovava della supervisione di un provenzalista per così dire di professione, c'è quella di Josuella Chin, che a Padova aveva lo studio, un piano di distanza da quello di Bandini. Dico per inciso che Bandini si rifece per il testo non all'edizione Eusebi come Tripodo, ma all'edizione di Ugo Angelo Canello che era stato anche il docente a Padova, anzi è stato il primo docente di filologia romana, anzi di provenzale in Italia, tra il 1873 e il 1883, era anche l'autore della prima edizione di Anna O'Daniel che si sia mai fatta. E quindi, questo lo dico solamente per, diciamo, togliere un dubbio che potrebbe venire in seguito, vale a dire, le edizioni di riferimento usate diversamente dai due poeti causano ovviamente qualche disparità tra i testi originali seguiti dai due traduttori. Però ho pensato di portarvi nei prosegui esempi in cui tale disparità non provoca una grande differenza tra le traduzioni in maniera tale da semplificare il discorso. È bene dire che la traduzione di Bandini non nacque in risposta a quella di Tripodoro ci mancherebbe altro. La preparazione di simili lavori di traduzione dura anni e nel caso di Bandini è durata molti anni. Semplicemente, probabilmente, c'era il clima giusto per sopportare a livello editoriale la presenza sui scaffali delle librerie di tre traduzioni rinaldiane quasi in parallelo. L'uscita del volumetto di Bandini fu un'occasione di rilancio di interesse per la traduzione di Tripodoro e di una rilettura ovviamente nelle forme del confronto. Centrale, in questo senso, rimane l'articolo recensione al libro di Bandini scritto da Pier Vincenzo Mengaldo, suo collega nella stessa Università di Padova e uscì sulla rivista Paragone nello stesso anno 2000. Non fu una recensione di favore, fu una recensione estremamente seria ed equilibrata in cui le caratteristiche, le scelte stilistiche dei traduttori vengono messe a confronto e fatta salva l'ammirazione per l'ottima riuscita di quella di Bandini. Mi pare, se non leggo male, che anche Mengaldo alla fine avesse una qualche predilezione per quella di Tripodoro, ma non ha importanza notare come Mengaldo metta in luce che si tratti di traduzioni per molti aspetti opposte, opposte nelle scelte versitali, ritmiche, metriche, stilistiche. Tanto che Mengaldo adotta con le dovute avvertenze uno schema in cui le due traduzioni si dispongono ai poli estremi di una linea. I due poli sono quelli della cosiddetta traduzione appaesante e della cosiddetta traduzione straniante. Appaesante è la traduzione di Bandini in quanto conduce l'alterità del testo originale, che è un'alterità storica, culturale, linguistica, quanto più possibile nei pressi del luogo nel quale abita il traduttore, cioè nei pressi della storica determinazione della lingua e della cultura poetica del traduttore, così come del suo pubblico. in sostanza è come dire che Bandini ospita Arnaut nella casa della modernità. Straniante invece è Tripodo in quanto opera nel modo contrario, cioè trasportando per quanto possibile con tutti i mezzi a sua disposizione la propria lingua e la propria cultura poetica nei pressi di quella del testo originale. L'estraniazione, in questo senso, è un farsi estranei innanzitutto a se stessi e abitare per un tempo la casa di Arnaut. Dirò solo per inciso che la categoria della traduzione straniante era stata applicata alcuni anni prima dal critico americano Lawrence Venuti nel suo The Translator's Invisibility del 1995 dove, opponendo le categorie di foreignizing translation e domestic translation, etichettava nel primo campo le traduzioni di Ezra Pound, proprio le traduzioni di Ezra Pound delle poesie del medioevo romanzo e soprattutto di Arnaut e Daniele. L'esposizione di Mengaldo è talmente chiara e ben argomentata sui singoli esempi che mi sentirei sollevato dall'obbligo di presentarvela, anzi sarebbe bene se mi limitassi a invitarvi a leggerla. Anche perché il confronto tra traduzioni parallele, quando si tratti di traduzioni poetiche e non di traduzioni filologiche, provoca sempre una qualche difficoltà, una qualche remora. Lo stesso Mengaldo sente e enuncia questa difficoltà, ma una recensione è il luogo giusto per farlo una volta per tutte. La traduzione fatta da un poeta ha riscontro solo col testo dell'originale, con la produzione del poeta stesso. Ma la natura seminariale del nostro incontro in qualche modo mi invita e forse anche mi obbliga a non sfuggire a questo procedimento critico. È opportuno sottolineare subito che sarebbe sbagliato e sciocco ridurre l'opposizione tra Tripodo e Bandini a un'opposizione tra traduzioni più o meno letterali, più o meno fedeli. L'opposizione è tra due ricerche stilistiche le cui ragioni stanno ben a monte del semplice affaticarsi sulla lettera e hanno a che fare con una più generale idea della poesia, in definitiva con lo stile personale dei due poeti. Se si vuol dare, come si è fatto del neoclassico, a Bandini per la traduzione di Arnaut, a causa della sua lingua nitida e distesa, occorrerebbe anche ricordare che quello è il suo stile prevalente anche nella sua produzione poetica originale, non in traduzione. Vorrei proporvene un saggio. Prendiamo la prima poesia della sua raccolta, ve l'ho riportata, viene dalla raccolta L'amanti della città del 1979. Leggiamo, ve l'ho riportata intera, ho cercato di riportarvi tutti i testi per intero così vi potrete, se volete leggere, che le poesie non andrebbero mai a letti a pezzetti, leggiamo solo i primi otto versi. Da quadro a quadro il filo del discorso seguire senza che troppa tensione lo spezzi o becco stile lo intacchi da sinopia a sinopia nel pomeriggio di pioggia che fa alto, lo scorso. Sentite, è uno stile limpido, nitido, che non vuol dire che sia una poesia concettualmente semplice, se la leggete per intero ve ne accorgerete. Questi versi, migliori portati, perché possono essere presi veramente come una sorta di dichiarazione di una poetica della chiarezza. È una dichiarazione della ricerca della parola vera che è raggiunta togliendo tensione, dice Bandini, eliminando incrostazioni da sinopia a sinopia, così come in un affresco, staccando le pellicole si arriva infine alla sinopia che non può essere tolta appena la perdita di tutto. Avrete anche intuito la ragione nella scelta di questa poesia in quella intacco evidente arnaldiano che è l'immagine del becco ostile senza che troppa tensione lo specchio becco ostile lo intacchi becco intacchi sentite la chiarezza non va senza le ricerche foniche però quel becco ostile ci riporta direttamente ai celebri versi iniziali della sestina di Arnaut lo fermo voler che il comintra non può gest bex escoissendre né ongra dell'Ausenger che per so maldir l'arma bex escoissendre segno tra le altre cose della frequentazione annosa di Bandini con la musa del poeta Caussino siamo nel 1979 siamo 21 anni prima dell'uscita della traduzione integrale Bandini è stato poeta in italiano e in latino ma è anche stato uno straordinario poeta dialettale uno dei più importanti tra i più recenti proprio al dialetto vicentino la sua lingua familiare materna Bandini riservava lo stile dell'espressività della sintesi estrema e volendo anche dell'oscurità così come Pasolini aveva scelto il friulano nelle sue primissime poesie esplicitamente come alternativa all'italiano con tutto quel che consegue lo stesso è quel che fa Bandini con il dialetto vicentino usato come una sorta di provenzale interiore rispetto al quale tutte le altre sue lingue poetiche l'italiano come il latino rappresentano delle lingue apprese delle lingue di cultura questa sorta di provenzale interiore configura diciamo l'idea stessa dell'origine dell'origine di quando il dato storico non era ancora origine era il primo farsi la tradizione non esisteva come si può dopo sette secoli eliminare la tradizione saltandola a pie pari o inventando una lingua inventandosi una lingua come dice l'aveva fatto Pasolini o recuperando una lingua come il proprio dialetto materno che è in quanto tale impoetico nel senso di mancante o meglio deviante della tradizione poetica io vorrei darvi un saggio di queste sue poesie dialettali ne prendo una dalla raccolta santi di dicembre uscita nel 96 1996 cioè quattro anni prima della traduzione di Arnaute ve la propongo proprio almeno che fra voi non vi siano vicentini che la sentiranno come una poesia in una lingua materna appaesante ve la propongo come veramente un saggio di poesia straniante sia giorni di lavoro e ancora è festa dove vetto le trambola te senti campanelle dentro in testa te che fischi del vento in tenerecce te che te che sgrigna le vece te baruffi coi spiriti ai cantoni te pareti putei te senti freddo ai pie te che genociti di puina ma riavergo la varda stamattina anche il mondo te sbrissi a via dai occhi e primavera casca il te lo amaro cotì con gli oseletti e con la fiora del sarisaro a ben vedere voi potete magari vederlo nella traduzione che i poeti dialettari in genere aggiungono appongono alla propria poesia in dialetto potete vedere quanti elementi rimandano al linguaggio probadorico insieme a questo rimando più generale della scelta linguistica vedete i gli oseletti la fiora del sarisaro ecco diciamo che mi interessava lasciarvi la suggestione che Bandini fugga nella traduzione di Arnaut l'estraneità perché la sua estraneità lui la può raggiungere all'interno di un altro ambito suo anteriore ben ritagliato che è quello della poesia dialettare Tripodo che non è un poeta dialettare mai e che non so se parlasse davvero un dialetto era di famiglia siciliana trapiantata a Roma e non si può nemmeno dire che il romano sia un dialetto il romanesco sia un dialetto d'altronde quindi è più facile capire questa differenza Tripodo l'estraneità la può ricercare traducendo Arnaut nella lingua italiana Bandini la possiede già in una sua lingua naturale ciò consente anche di capire meglio come l'orientamento verso l'una o l'altra delle polarità traduttive della paesante dello straniante abbia molto più a che fare per un poeta non con il problema di come tradurre il singolo autore o il singolo testo ma piuttosto con un confronto con il proprio personale stile un poeta ragiona sul suo stile come se fosse una sorta di flusso che coinvolge l'intera sua produzione con le sue continuità le sue interruzioni e le sue svolte in qualche modo quello dello straniamento e appaesamento insieme a tante altre dicotomie critiche sono polarità che si ripropongono al poeta di fronte a ogni suo atto creativo e non solo quello della traduzione quindi è una dicotomia comoda ma che va utilizzata con questa consapevolezza anche perché nessun poeta che tale possa dirsi traduce per confronto con un'altra traduzione ma innanzitutto per confronto con la propria poesia e detto questo mi sento più libero di tentare un confronto tra le versioni di Tripode e di Bandini di uno stesso testo di Arnaut e cominciamo allora prendiamo a campione la canzone che vi ho riportato di cui esaminiamo solo la prima stanza la canzone dove i mozzon plane prim fas pus era botono il vim e la ussor sim sono dei color di mainta flor e verde è già fueglia e il cian e il braio sono all'ombrale e la ussè per la boeglia leggiamo la traduzione di Tripode canzone di parole fine facce e piane orche gemma il vinco e l'alte cime sono del colore di fiore in fiore e verdeggia la foglia canti e sonaglio sono all'ombrelle degli uccelli e il broglio bandini canzone di parole semplici insieme e lette dovrò comporre adesso che ogni vinco germoglia e sugli alberi le più alte vette hanno il colore del proprio foltofiore e verdeggia la foglia e i gorgheggi e i richiami degli uccelli risuonano tra i rami del bosco entrolombra la prima differenza che salta gli occhi è nella scelta delle misure dei versi e nello schema delle strofe Tripodo opta per stanze in cui a ciascuna sede di verso equivale una stessa misura adottando il novenario per i primi due versi il quinario per i versi interni e il settenario per l'ultimo verso sempre in queste sedi anche Bandini opta per una mimesi dei vuoti e dei pieni dell'originale però opta per una varietà maggiore di misure dal verso di quattro sillabe al quinario al settenario per le misure brevi quindi ben tre dall'endecasillabo al doppio settenario alessandrino per i versi lunghi come ovvio la scelta del contenitore ritmico cioè della stanza del verso prefigura le scelte che si faranno sul contenuto tanto dal punto di vista sintattico e argomentativo quanto dal punto di vista lessicale e del suono si vede già dall'attacco dei due primi versi come per Bandini il respiro della misura sillabica vada insieme con una più evidente necessità di decompressione dell'argomentazione che si svolge con naturalezza con procedimenti che seguono la logica quasi di un parlato affabile ed elegante ma vediamo Tripodo a misure più brevi corrispondono nessi logici più complessi espressi con meno parole e in modo leggermente più involuto ad esempio lo vedete tra il primo e il secondo verso l'enjamboment con conseguenti perbato canzone di parole fine faccio e piane invece Bandini canzone di parole semplici insieme e lette dovrò comporre nella stessa direzione dal punto di vista lessicale va il verbo gemmare di Tripodo che è un intransitivo che in italiano suona ricercato si direbbe più comunemente mettere le gemme e che proprio perché ricercato è strano sembra più adeguato a rendere o sembra adeguato a Tripodo per rendere quel bottona di Arnaut che è un denominale anch'esso da botton bottone cioè gemma anche Bandini usa un verbo intransitivo e denominale quindi strutturalmente l'idea è la stessa ma è germogliare che viene da germoglio ed è una parola non connotata stilisticamente anzi è una parola che useremmo anche fuori dal contesto poetico è la parola che ci appaesa per continuare in questa terminologia con quello strano bottonà di Arnaut e in qualche modo lo neutralizza una seconda fondamentale distinzione tra le due versioni è costituita dal trattamento delle rime riprodurre gli schemi rimici delle canzoni provenzali è un vero tour de force che ha più senso fare qualora si possano scegliere singoli componimenti che si ritiene possibile diciamo di cui si ritiene possibile mimare lo schema rimico altrimenti quando ad esempio si deve tradurre un'intera raccolta o un grande numero di poesie si preferisce non riprodurre lo schema rimico che non vuol dire però non usufruire della rima e non usufruire per così dire di compensazioni foniche in luogo della rima un poeta traduttore e filologo romanzo che ha tradotto poesie trovadoriche mantenendo gli schemi rimici è Pietro Beltrani il quale per l'appunto sceglieva le singole poesie da tradurre anche sulla base della possibilità che sentiva di poterle tradurre così comunque vediamo come in questa traduzione tripodo moltiplichi le rime vere e proprie o almeno i richiami fonici vedete se voi vedete la traduzione di bandini non mancano non mancano affatto abbiamo i richiami tra i rami colore foltofiore elette vette ma quel che c'è di diverso è una minore cogenza della rima dell'originale che cosa voglio dire allora tripodo all'ultimo verso di ogni strofa la dovernaut che ha sempre la rima in oglia mette voglio orgoglia imboglia sdoglia lagno campidoglio quindi non è solo il mantenimento del procedimento rimico è il mantenimento del procedimento rimico in una particolare sede dove mima la presenza di un certo suono rimico in arnaut ed è anche il tentativo di attenersi di mantenersi all'interno del timbro rimico quando vi dicevo della compensazione la compensazione la vedete non solo nel mutare della vocale finale voglio o goglia ma soprattutto nell'utilizzo del schiacciata nasale di lagno come una sorta di conguaglio per una sorta di conguaglio con la laterale palatale l'agno sta nel stesso contenitore timbrico di voglio sostanzialmente e poi vi è già caduto l'occhio sulla resa differente che fanno che hanno bandini e tripodo al verso 7 del termine braille vedete bandini richiami tripodo sonaglio avete anche già capito come la scelta di tripodo sia condizionata e motivata dalla ricerca tra i lessemi del campo del suonare e del cantare di un sostantivo in grado di mantenere sensibili i richiami tra i rimemi consecutivi di Ernaut braille braille buoglia ciò spiega anche il ricorso al curioso ombrelle per piccole ombre e non è una curiosa invenzione lessicale di tripodo ma è il recupero di una parola che ebbe corso nella poesia italiana proprio con il significato di una copertura vegetale che fa ombra e si trova da poliziano da riosto e che a noi fa venire in mente il parapioggia e la nostra sorpresa è un buon segno è il segno che la traduzione di tripodo è riuscita a convincerci a portare l'occhio alla poesia di Ernaut per decifrare il segno di quell'ombrella con cui il tripodo ha scelto di accorciare la sua distanza ad Ernaut e fatalmente con la consapevolezza che avrebbe aumentato la sua distanza dal lettore d'altronde nella traduzione di questa canzone così come nelle altre sono frequenti le parole che potremmo definire desuete o arcaiche non per gusto del preziosismo in sé ma di volta in volta per ragioni di auscultazione profonda della parola di Ernaut in rapporto al ventaglio delle possibilità fornite dall'essico italiano e si badi da tutto l'essico italiano nella sua lunga evoluzione storica così in questa stessa strofa abbiamo broglio per il provenzale broglia bandegna bosco e qui possiamo vedere una sorta di gioco semantico per cui il significato di broglio come viluppo si deve trasportare all'idea di un viluppo vegetale non senza la presenza di un richiamo e una sorta di convergenza verso il venetismo brolo che significa giardino d'alberi frutteto bosco abbiamo non mi si faccia crime per il provenzale non fassa crim bandini traduce non me lo rinfacciate crime è un latinismo crudo presente anche se sporadicamente nella poesia italiana nella lunga durata dal trecentesco Tommaso di Giunta sino a Vincenzo Monti e ancora l'identico mi sorgoglia di Tripodo per il provenzale mi sorgoglia di Bandini di di Ernaut e Bandini traduce verso me si mostra altero propone un provenzalismo piuttosto comune nella poesia italiana antica a partire dai poeti della scuola siciliana c'è in Giacomo D'Arentini in Guido della Colonna se non ricordo male così via insomma sono tutti termini che hanno liceità nella tradizione italiana e che rimontano volentieri alla sua fase medievale non andrò oltre nell'analisi di questa poesia nel confronto mi interessa mostrarvi una resa che di per sé non sembra motivarsi strettamente per affrontare il testo provenzale allora prendiamo ancora la traduzione di Tripodo all'inizio della Quinta Cobla Ernaut propone si ben vauk per tot abes dagli mos pensamens lai vos assagli Tripodo traduce seppur vago per ogni andana l'almio pensarvi vassale una parola sola sull'efficacia di quel cacofonico pensarvi vassale che rende molto bene l'assalto paradossale fatto col pensiero una sorta di esagerazione personale da parte di Ernaut del già esagerato amor dell'ontro vadorico però focalizzare l'attenzione sulla stranezza di quel termine andana seppur vago per ogni andana avrebbe interessante soffermarsi sulle difficoltà ecdotiche della lezione di Ernaut ma non lo farò tripodo alla fine segue la lezione posta a testo da Eusebi che traduce la locuzione vauk abesdagli con andare vagando e il senso in tripodo è quello infatti c'è anche il verbo vagare ma a cui segue un complemento di moto per il luogo andare vagando per ogni andana questo è un termine che viene dai dialetti nord italiani che è presente anche in provenzale peraltro ma insomma in italiano ha questa provenienza e che trova scarsissima accoglienza in testi letterari dell'ottocento ha diversi significati tra i quali uno molto tecnico una sorta di corridoio dove i funaioli tendevano le canape per fare le corde ma anche ed è quello che interessa a tripodo quello di spazio tra due filari di alberi qualcosa come una strada un cannino l'ottocento